12. Fratelli minori Ho letto che gli animali esprimono quasi due milioni di specie e sono gli organismi più diversificati che popolano la terra. Ad un estremo del regno animale vi sono i predatori, veloci come gli squali o i grossi felidi e i rapaci. All'altro vi sono i detritivori, che sono piccoli animali che si cibano di detriti e vivono nel terreno e nei fondali marini. Da quale sintesi possono essere comprese tutte queste creature? Commento Dalla sintesi che permette l'incarnazione progressiva della coscienza che si estende dal mondo minerale e vegetale e dai nostri fratelli minori, che sono gli animali, alla condizione umana.